Le marmellate di nonna Diana Buon poveriggio a tutti amici Oggi sono lieta di presentarvi una persona a me molto cara, la nonna Diana Allora, buonasera a tutti Oggi pure io ho l'onore di lavorare con mia nipote preferita La marmellata, le faccio vedere come si fa La marmellata fatta in casa Dalle prugne biologiche raccolte da un contadino di Mirto Vediamo cosa serve Nonna, questi sono gli ingredienti? Allora, ci fanno le prugne Un limone così si mantiene bella chiara, schiacciato E pochissimo zucchero perché la frutta c'è i suoi zuccheri naturali Quindi non bisogna caricarla troppo di zucchero Che poi sa, non è buona E procediamo Si gira per mezz'oretta con un cucchiaio di legno Fino alla cottura ultimata E poi procediamo avanti con le altre cose Nonna, cosa stai facendo? Non mi fa curiosare Allora, gioia della nonna Ma abbiamo messo le prugne Abbiamo acceso il fuoco L'abbiamo messo a fuoco basso Adesso andiamo ad aprire il limone E facciamo uscire il fuoco del limone In modo che la frutta resti chiara Perché se no cambia colore e diventa scura Perfetto E dobbiamo girare Perché se no c'è il rischio che ci attacca al fondo della pendola Si brucia e va bussata Perfetto Perché prende un cattivo sa cosa Mettiamolo così Con un coperchio Così con il vapore forma l'acqua E va meglio a cuocere prima Nonna, quanto ti aggiungerei lo zucchero? Allora, lo lasciamo cuocere Almeno per 20 minuti Quando ci accorgiamo che la marmellata è pronta Ci aggiungiamo lo zucchero E poi lo lasciamo cuocere Ancora per altri 10-15 minuti E abbiamo finito Poi siamo invasati Allora, vedi Dominic La consistenza che ha raggiunto Adesso possiamo aggiungere lo zucchero Per favore ne lo passi Ecco, nonna Ecco, qualunque La grazie Mettiamo tutto Ora dobbiamo stare attenti A girare in continuazione Perché lo zucchero attacca subito al fondo della pendola Vedi, donna, che è cambiato già coloro Sta diventando lucida E sta diventando più scura Perché lo zucchero Proveda questa lucendezza Mh, nonna, che buon profumino Guarda Adesso cosa facciamo? Allora, adesso mettiamo la marmellata nei vasetti Con l'aiuto di un mestolo O di un cucchiaio E ne mettiamo capovolti Si chiude bene il vasetto Così, vedi? Bello, nonna Vedete la frutta a pezzettini che si vede? Ecco Prendiamo un tovagliolino E si pulisce il bordo Così Se non vale di manere Tracce fuori E va chiuso Vedi? Ecco E lo mettiamo capovolto Così si manviene tutto a quest'inverno Nonna, secondo me questa bontana Chiarà nella nostra dispensa Nel meno fa un giorno Hai ragione, Do Nonna, dicci un po' Come possiamo utilizzare Questa squisita marmellata Nella nostra alimentazione? Allora, possiamo iniziare dalla mattina Con una buona fetta biscottata Vedi? La stendiamo sopra Un bicchiere di latte Che si è apposta Ed è buonissima Ecco Poi si possono fare Dei dolcini tipici calabresi Come questi Oppure dei bocchinotti Pure calabresi Ecco, vedi? Con la marmellata Che sono buonissimi Oppure una buona E ottima crostanza Fatta a casa Con la nostra marmellata Nonna, dicci un po' Con qual'altra frutta Si può preparare Questa borosa marmellata? Con tutta la frutta di stagione Per esempio Si inizia con la frutta Con le giliegie Che non ha fatto questa Poi ci sono le amarene Che vengono dopo Ed è questa Poi ci sono le albicocche Poi c'è quella dei fichi Che è molto buona E poi quella delle susine Che abbiamo fatto noi oggi Perfetto Io sinceramente Adoro tutte queste marmellate Però la mia preferita Non può che non essere Questa qua di amarene Buona Sai scegliere, no? Cari amici Da casa Madeo È tutto E grazie alla nonna E ricordatevi A Crosia Solo prodotti biologici A chilometro zero Grazie a te Gioia di nonna Che mi hai fatto venire qua Questa sera Grazie a te Grazie a te Grazie a te